maresciallo si capitano stasera passiamo una bella serata certamente capitano grazie dell'onore che mi date di uscire con voi andiamo al cinema finalmente a proposito avete preso i biglietti si tutti e quattro capitano quattro ma siamo soli e voi chi c'è il sic capitano due per entrare e due per uscire